Fratelli bianconeri e non, buonasera a tutti voi. Allora, dal momento che mancano diversi giorni alla super partita Lazio-Juventus in quel dell'Olimpico di Roma, stasera noi proviamo a vedere che cosa ci potremmo aspettare noi juventini perché noi siamo più curiosi di questa partita rispetto ai laziali, no? Perché? Perché ovviamente da una parte c'è Allegri, due il ritorno, a volte ritornano, dall'altra parte c'è un nostro ex, quel Maurizio Sarri mai amato dal popolo juventino. Io credo che siano veramente pochi i tifosi che hanno amato Maurizio Sarri, ma tant'è comunque ci ha lasciato con uno scudetto e quindi quel che è giusto è giusto della serie Diamo a Cesare ciò che è di Cesare. Detto questo però, che cosa ci potremmo aspettare durante questa partita? Sarà finalmente riuscito Sarri a dare veramente un input a una delle sue squadre importanti e far vedere il gioco del calcio tanto agoniato che noi volevamo vedere con il signor Sarri, ma che praticamente a parte in due barra forse tre partite non abbiamo mai visto? Sarà riuscito a farlo nella Lazio? Perché? Perché sottopongo a voi questa domanda? Per un motivo semplice che vi spiego. Allora, Maurizio Sarri arrivò nella Juventus quando non era lui che doveva arrivare e tutti lo sapevamo. Ma questo sarebbe il problema, sarebbe stato anche uno dei problemi minori forse. Il punto era, arriva Sarri, quindi cambio di mentalità, ma soprattutto cambio di gioco. Abbiamo visto qualche allenamento con Sarri voleva i due tocchi in velocità, recupero palla, eccetera. Cose che lui a un certo punto estromettendosi dalle colpe di un non gioco totale della sua Juventus disse questa squadra è inallenabile. Ora, la Juventus non si può negare che non fosse la squadra giusta per Sarri, no? Questo lo sapevamo tutti dall'inizio. Allo stesso tempo però molto del pubblico juventino si aspettava che Sarri riuscisse a cambiare le teste, la psicologia, i metodi di allenamento, perché no, di una Juventus ormai radicata da un decennio quasi, in un certo modo. Ora, la Lazio è passata da un praticamente italianista o italiota, o chiamatelo come volete voi, come Simone Inzaghi, e lo sta dimostrando anche nell'Inter questo, a un allenatore completamente diverso, come abbiamo detto poc'anzi, con una modus operandi lavorativo nel mondo del calcio completamente diverso da quello che aveva Simone Inzaghi. Sarà riuscito nella Lazio in questo miracolo? Contro la Juventus io sono molto curioso di vederlo all'opera. Sì, caro Sarri, sono molto curioso di vederti all'opera sulla panchina laziale per vedere a che punto sei arrivato e se era davvero soltanto la Juventus una squadra inallenabile oppure se tu veramente anche qui alla Lazio sei riuscito oppure non sei riuscito a dare quello che la Lazio vorrebbe. La Lazio non sta andando malissimo, ma a me mi interessa più che altro il discorso gioco e lo voglio vedere quando giocherai contro di noi, caro Maurizio, dove avrai portato la Lazio? Sarai in grado di dare a questa Juventus medio buona, non oltre, una lezione di calcio? Farci vedere finalmente quel tanto agognato gioco che noi avremmo voluto vedere con te? Oppure ci dovremmo sorbire, tra virgolette, il ritorno 2 di Mister Allegri sulla nostra panchina dove ovviamente non starà bene a lui soccombere sotto i tuoi colpi. Io penso che sarà una sfida molto molto interessante questa, penso che avremo di che divertirci ma soprattutto avremo di che parlare non tanto prima perché io mi sono un po' portato avanti col discorso ma soprattutto dopo dove si discuterà e si discuterà perché è ovvio che si possa discutere di questo. Ora innanzitutto io mi auguro che le due squadre giochino con la rosa al completo perché quando ci sono sfide di alta classifica io mi auguro sempre di vedere le squadre con i migliori pezzi, diciamo quelli più pregiati sempre in campo e questa è la prima cosa che mi auguro. E poi ripeto soprattutto veramente il confronto tra queste due ideologie di calcio completamente differenti l'una dell'altra ma soprattutto ripeto perché non mi interessa tanto il discorso relativo al fatto Allegri-Sarri oppure Sarri-Allegri ma più che altro anche per vedere se realmente Sarri è riuscito nella Lazio a fare quello che avrebbe dovuto fare senza riuscirci perché è sotto gli occhi di tutti alla Juventus. Sono due punti sui quali ripeto avremo che da discutere già dalla prossima settimana per quel che ci potrebbe aspettare ma soprattutto dopo la partita per quel che vedremo. Non lo so io francamente vi dico sono molto curioso di vedere questa sfida forse mai come quest'anno sono stato curioso di vedere Lazio-Jume veramente perché credo che ci siano davvero veramente tanti motivi, tanti gli spunti di interesse in questa partita di cui poter discutere e di cui poter portare avanti ognuno il suo punto di vista per vedere alla fine quale sarà il punto di vista migliore. Ovvio non è che se vincerà la Lazio è bene vorrà dire che Sarri ha fatto un miracolo oppure se dovesse vincere la Juventus è bene sarà Allegri aver fatto un miracolo. Non parliamo di miracoli parliamo comunque di due buoni allenatori due allenatori che comunque a loro modo sono stati vincenti perché comunque qualcosa ha vinto Sarri no? Allegri ormai tutti lo conoscono ma è proprio la filosofia dell'ideologia calcistica che hanno questi due allenatori che mi intriga e mi intriga parecchio devo dire ma parecchio 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 per cui veramente spero di vedere davvero una bella partita ma ripeto gli spunti di interesse di cui parlare saranno tanti e in questo video vorrei sapere anche le vostre idee le vostre impressioni cosa vi aspettate da questa partita se veramente ci saranno gli spunti che potrebbero veramente creare una sfida stellare oppure pensate che anche Sarri cercherà comunque di fare una partita guardinga senza scoprirsi troppo senza perché noi umentini lo sappiamo Allegri come giocherà andrà all'olimpico con il classico 4-4-2 coperto e il problema non si pone io non penso proprio che andrà all'olimpico con un 4-3-3 alla sbarazzina non l'ha mai fatto Allegri cioè cadrebbe il mondo ma sono curioso anche di vedere se Sarri adotterà il suo gioco o lo snaturerà in favore della Juventus avremo di che divertirci ma soprattutto avremo molto di cui parlare di questa partita ne sono più che convinto ciao a tutti